In Abruzzo sono 15 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno, oltre 300 in Italia. Un elenco senza fine. I dati resi noti dall'Inail per il primo trimestre del 2018 dimostrano che l'allarme lanciato dalla FIM CISL è più che giustificato, più 11% gli incidenti mortali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un dato che probabilmente verrà ritoccato al rialzo nel report che sarà diffuso a luglio sull'andamento del secondo semestre. Se ne è parlato oggi nel direttivo provinciale della FIM CISL di Teramo. Noi pensiamo che la salute e la sicurezza dei lavoratori debba tornare al primo posto dell'azione dei sindacati. Noi non possiamo accettare passivamente il riverificarsi di una situazione infortunistica così grave come si sta verificando nei primi mesi del 2018. Quali sono i fattori che scatenano questa situazione? Intanto c'è un fattore legato a un'obsolescenza in molte aziende manifatturiere, molte fabbriche, degli impianti, dei macchinari. Non si sono garantite negli anni, forse negli anni della crisi, le manutenzioni straordinarie, ordinarie. Quindi nel momento che c'è una ripresa economica, che la produzione ritorna ai livelli precedenti alla crisi economica finanziaria del 2008, si verificano degli infortuni che non sono altrimenti giustificati. Che fare per arginare questo triste fenomeno? Bisogna innanzitutto investire in formazione e investire nella manutenzione e nei macchinari che sono dentro le aziende. È fondamentale perché oggi la maggior parte degli incidenti si verificano, uno per l'obsolescenza dei macchinari, l'altro perché sostanzialmente non c'è cultura della sicurezza. Si enfatizza il momento in cui c'è un incidente, ne parlano nella stampa, ne parlano in media, e poi però cade nel dimenticatorio. Serve una cultura diffusa a partire dalle scuole, dai posti di lavoro, per rendere consapevoli tutti che la sicurezza è un valore della società, è il diritto al futuro delle persone. Quindi è importante investire in questi termini.